... che abbia finto un incidente nell'unica stanza della casa su cui era puntata una telecamera. Già. No! Ah! Maledizione. Lorraine, aiutami a aprire questi registratori. Riavvolgilo e riparti dall'inizio. Va bene. Ricordi quegli strani e confusi messaggi che ci ha dato Janet. Sai, da... Bill. Sì. Ce n'erano due, giusto? Questo è il primo. Pensavamo si riferisse a se stesso. Sì. Ascolta il secondo. Sì. E se non mi sto sbagliando. Sì. 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 Sì.